Aspetti Aspetti Ok, tu puoi incominciare Fai il motore, togli il dito e poi fai cosa vuoi Devi toccare la manetta, non a destra, voilà Ti alci E poi con l'altra mano fai che... Boom Giri, alci, voilà Boom Non toccare il motore, eh La tieni, la tieni Con l'altra mano puoi girare L'altra mano ti fa girare Boom Devi rimanere con la mano L'altra mano per alzare Non l'altra Voilà Giri, così ti vai alzare Voilà L'altra mano ti giri con l'altra mano Oh, uhlala Uulala Uhlala L'altra mano puoi girare, eh? Boom L'altra mano puoi girare, giri per alzarti, poi giri la manetta per alzarti, l'altro senso, la devi girare, non l'altra, si, quella, e con l'altra mano fai girare destra o sinistra o avanti. Oh la la, oh la la, qua c'è un temporale, eh? Ora la, on la direzione, ora è rendita, ed è successo, Sì, e l'altra parte... Non ho capito. Non, non lo fa mai. Non, non lo fa mai. L'argomento era un video game. Ma è vero, perché... Oh, no, è bene. Oh, la la. Attends, non parla inglese. Non, non parla inglese. Con la mano destra vai avanti. Oh, la la. Adesso a destra. La mano destra a destra. Voilà. Adesso con la mano sinistra a destra. Adesso puoi girare con la mano destra, la mano destra il ritra e zuvano. Non, avesso a tenati in un giro, la mano destra a destra. Non, non ho capito. Allora chateva un giro e di killers. Il ritro allò si raffreddit. Non, non si è bene che si è appunto. Si, è il pilota, che si tratta di raccogliere il rischio. Questo è diverso, in tre dimensioni. Plus, in a create video games. Questo era bene. Qual è questo speciale virtual reality? È un simulatore di 3 dimensioni. Questo è un simulatore reale. Questo è un simulatore reale. Quando compravi un jetpack, potremmo ti attraverso su questa macchina prima di andare al reale jetpack. Penso che hai bisogno di 2. Hai bisogno di 2. 3 mesi, e poi penso che sei bene. Ok, Gino, Gino! Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Si.